e quindi rinnovo il saluto agli amici che ci hanno raggiunto in piazzetta Conia qui sul lungomare di Policoro ma anche ai tanti che quest'anno per la prima volta ci hanno seguito in tutto il mondo grazie al live streaming perché abbiamo trasmesso in diretta via internet nella sua interezza questa edizione del Festival Blues in Town ma entriamo nel merito Grazie a tutti 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 Sono stata invitata proprio dai ragazzi di Blues in Town quest'anno è la seconda volta sono onorata perché ci tengo a dire che questi ragazzi si prodigono per far vivere per il cuore e chi ama l'arte vuole chiaramente condividerla con tutti gli altri grazie a tutti grazie a tutti